ben trovati al salotto dello scarabocchiatore il podcast sul meraviglioso mondo della nona arte ideato dallo scarabocchiatore diretto da Monica Petronzi e dal sottoscritto Giulio Battolla benvenuti quindi nella terza puntata del salotto dello scarabocchiatore benvenuti e ben ritrovati a chi ci ha già seguiti per i nostri fan più affezionati saprete che nella prima puntata abbiamo parlato abbiamo avuto una conversazione interessantissima con Lorenzo Palloni sul mostro americano di Frank Miller e in seguito assieme a Sergio Gerasi abbiamo invece parlato nella terza puntata e nella puntata precedente di un colosso italiano veramente un colosso che ha avuto un sacco di risonanza anche all'estero e in Europa ed ha rivoluzionato letteralmente il fumetto europeo e sto parlando di Crepax prima però di rivelarvi di chi andremo a parlare oggi vorrei presentarmi i due ospiti della puntata di oggi innanzitutto l'immancabile Monica che come sempre è qui al mio fianco come sempre mi sostiene e mi aiuta nella realizzazione di questo bellissimo progetto ciao Giulio e benvenuti a tutti nel salotto dello scarabocchiatore versione podcast siamo qui ormai nel vivo delle puntate quindi non stiamo neanche troppo a perdere tempo e vediamo subito di introdurre l'ospite di oggi diamo dunque ora un grande benvenuto all'ospite di oggi un ospite che è davvero un pozzo di scienza riguardo i fumetti oltre che essere un ottimo scrittore di fumetti e signori e signori sto parlando di Adriano Barone ciao Adriano ciao 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 a tutte e tutti è un super piacere essere qui dallo scarabocchiatore dunque Adriano Barone non solo è uno scrittore e sceneggiatore attivo sulla scena da così tanto tempo che sarà fare una bio dettagliata e abbastanza superfluo anche se sarò buona e vi citerò qualcosa tipo il suo Nathan Never, Justice League, Doppio Universo oppure l'era dei titani o tipo l'idea di un amore fantasma comunque andiamo oltre a qualcos'altro ovvero Barone insieme ai suoi soci di progetto Giovanni Timpano e Fabio Guaglione sono stati da poco ospiti nel salotto dello scarabocchiatore live in una puntata interamente dedicata a un nuovo progetto targato Bonelli Mister Evidence e potete tranquillamente ovviamente dopo la puntata del podcast recuperare l'intervista sul nostro canale YouTube o sul profilo social Facebook dunque senza perdere altro tempo quindi io direi Giulio buon lavoro e a dopo veniamo ora alla ciccia veniamo al sodo però della puntata a me piace arrivarci in fretta e quando ho contattato Adriano mi ha indicato questo autore devo ammettere che era un autore che non conoscevo a fondo lo conoscevo di nome perché è un autore molto molto conosciuto avevo letto qualcosa di lui ma diciamo che in questi mesi da quando ho contattato Adriano per l'intervista l'ho approfondito molto e devo dire sono rimasto estremamente affascinato da questo personaggio e l'autore in questione è un fumettista ma anche scrittore è stato anche showrun ad esempio della serie di animazione di Castelvania che è uscita qualche anno fa è stato autore Marvel DC è stato autore Dynamite Avatar Press quindi ha lavorato nelle maggiori testate diciamo americane è un autore poliedrico caratterizzato da una fluidità dei propri generi narrativi incredibile nel senso che i suoi fumetti sono relativamente inclassificabili da un punto di vista del genere spesso dà una grande rilevanza ai problemi moderni ai problemi dell'età moderna dell'era moderna e sperimenta un sacco di tipi di contenuti ed è famoso per la ricerca dell'iConcept cioè di creare delle premesse narrative estremamente complesse ed estremamente ingaggianti Warren Ellis signore e signori Warren Ellis autore inglese mostro incalcolabile nella creazione dei concept dei fumetti se non l'avete letto leggetevi Super God vi prego perché è un fumetto che ha una fa una riflessione sul super uomo e sul concetto di super eroe incredibile secondo me ha sempre degli opening di impatto e una crudezza incredibile nella narrazione Warren Ellis Adriano Warren Ellis perché hai scelto Warren Ellis qual è il motivo che ti ha spinto a indicarmi un autore così particolare da parlare in questa puntata insomma allora perché Warren Ellis perché da un lato ha sempre esplorato i generi che a me sono più congeniali cioè la fantascienza e l'horror anche se poi in realtà li ha declinati in vari modi a volte sul thriller a volte sull'action ma soprattutto perché trovo che Warren Ellis abbia la capacità di rendere i propri fumetti rilevanti cioè è un autore che seguo a livello di newsletter che lui ne fa penso dal 2003 se non da prima che ha una curiosità feroce una fame di ricerca di novità e di quello che sono le tendenze sociologiche antropologiche tecnologiche del nostro tempo e cerca appunto di parlarne nei propri fumetti e questa è una cosa che io ho sempre trovato interessantissima cioè non basta raccontare storie ma le storie devono essere importanti in un certo periodo storico in quel periodo storico raccontare qualcosa che abbia importanza in un determinato momento e questo penso che sia uno degli aspetti l'altro aspetto è l'inventiva cioè nel fare riferimento al periodo storico c'è sempre veramente la capacità di dire qualcosa di nuovo di inaspettato guardare come dire sempre a come ammo dire a 5 minuti nel futuro cioè non fermarsi a quello che è l'immediato ma cercare di fare quel piccolo passo da studiosi del futuro quantomeno del futuro prossimo che permetta di dire qualcosa di più rispetto a un'osservazione del presente dell'attuale concordo su tutta la linea un autore veramente spettacolare secondo me e riguardo invece un altro aspetto di Warren Ellis che ho già citato nell'introduzione ma vorrei sapere un po' più il tuo parere da questo punto di vista secondo te quanto è difficile riuscire a creare una premessa narrativa un high concept alla Ellis creare delle premesse narrative alla Ellis io non è che ho la pretesa di creare delle premesse narrative alla Ellis semplicemente cerco di come dire ispirarmi senza esserne degno come si può dire senza esserne degno di ispirarmi a questi due principi appunto inventiva e rilevanza cioè l'idea è sempre di fare un qualcosa che possa essere inaspettato e che possa essere inaspettato non per il gusto di esserlo ma perché sia una riflessione sul presente che faccia avvolgere uno sguardo un pelo più in là magari in maniera laterale ma molto più spesso in avanti e faccia pensare al lettore alla lettrice potremmo davvero andare in quella direzione e non è una direzione che mi aspettavo oppure c'è questo aspetto del reale del contingente che ci attende dietro l'angolo e non l'avevo visto questo penso che sia il tentativo difficilissimo però farlo può essere un'aspirazione ma poi la realizzazione è davvero un'altra cosa beh difficile è quasi riduttivo dire creare una premessa alla Alice è difficile direi che è quasi riduttivo come hai giustamente spiegato quella è una cosa che veramente impatta tantissimo della scrittura di Alice ha una una capacità di creare delle premesse narrative estremamente originali insolite e accattivanti veramente fenomenale niente da dire bisogna solo star zitti di fronte a dei fenomeni del genere secondo me e veniamo però all'ultima domanda ho già parlato in introduzione anche qui come Warren Ellis avesse una caratteristica molto importante nella fluidità dei dialoghi e nella nella crudezza dei dialoghi stessi mi ha ricordato questa sua caratteristica che è abbastanza inconfondibile dell'autore un altro autore che si contraddistingue per queste cose che è proprio Gartennis dimmi un po' Adriano secondo te qual è la differenza tra questi due autori hai provato a metterli a confronto cosa ne pensi? ah la differenza con Gartennis ma sicuramente Warren Ellis è più stringato in realtà io mi ricordo che lui aveva scritto non mi ricordo in che sede forse una newsletter che se tu scrivi in Times New Roman 12 una riga di dialogo che è più lunga di una riga in Word è troppo lunga quindi se si pensa a Mr. Evidence sicuramente abbiamo ampiamente violato questa regola ma anche in Nathan Never Justice League per esempio quindi sì i dialoghi sono fluidi ma sono anche molto secchi cioè Warren Ellis si sceglie sempre disegnatori e disegnatrici a cui affida tantissimo dello storytelling e sa che può permettersi di farlo quindi questo è un approccio che ha più o meno sempre avuto sia nelle sue opere creator owned sia per le cose che ha fatto per Marvel o per DC per quanto riguarda la crudezza dei temi io credo che ci sia una differenza tra Ellis e Ellis nel senso che a me sembra che Ellis sia crudele quando serve esserlo ed è spesso necessario esserlo ma a volte sa essere amaro sa essere semplicemente sarcastico e c'è sempre un momento di meraviglia che ti permette di recuperare un po' dal momento di ultra violenza a volte all'ultra violenza splatter e quindi dipende proprio dalla visione del mondo dell'autore la visione del mondo di Gar Tennis è desolante e desolata cioè tutto quello che fanno gli esseri umani è terribile non c'è speranza facciamo schifo come specie in rarissimi casi c'è come dire una speranza di redenzione ma tendenzialmente quello che emerge dai fumetti di Warren Ellis che l'umanità fa abbastanza schifo e poi in Ennis in certe opere vedo veramente un gusto soprattutto in quello in cui affronta i temi supereroistici veramente un gusto che è oltre di conoclasta e quasi veramente a voler dire questi sono stronzi in calzamaglia che si picchiano è una stupidata perché li state leggendo io li scrivo ma li scrivo come meritano secondo Gar Tennis cioè come delle stronzate e quindi volgarità splatter fluidi corporei di vario tipo come dire faccio la cacca nel posto che vi piace perché secondo me è un postaccio ecco guarda non avrei saputo dirlo meglio effettivamente mi ci hai fatto pensare tu adesso effettivamente Gar Tennis ha meno con tutto il rispetto per Gar Tennis che resta uno dei miei autori preferiti di quel genere lì ma ha meno classe di Ellis sicuramente cioè molto più rozzo e molto più dissacrante cioè anche la volgarità utilizzata in maniera così distruttiva proprio per il gusto di utilizzare la volgarità mentre Ellis come dici tu è più ponderato usa la volgarità ma la usa come metodo magari per veicolare qualcosa ma non la usa è difficile che usi certi certi spedizioni relativi gratuitamente e quindi niente purtroppo siamo giunti al termine perché tutte le cose belle hanno una fine io avrei voluto parlare tantissimo ancora ma purtroppo il format del podcast deve essere corto altrimenti voi mi mandate a quel paese dopo due puntate e niente ne approfitto per ringraziare tantissimo Adriano che come sempre è un piacere sentire parlare e quindi salutarlo mandargli un caloroso abbraccio e salutare anche ovviamente anche Monica che è sempre qui con me e che mi aiuta tutti i giorni per realizzare questo bellissimo progetto ciao a tutti e alla prossima puntata ragazzi siete stati super gentili ad ospitarmi grazie davvero grazie mille grazie della chiacchierata e niente ci risentiamo alla prossima allora ciao 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 io ringrazio Adriano per essere stato con noi come al solito ringrazio Giulio e sono felicissima di averlo sempre con me o di essere sempre io con lui insomma fate voi per noi è uguale al mio fianco ciao a tutti e alla prossima puntata ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti